Buongiorno, io mi chiamo Massimo Facchinetti e il mio compito oggi è quello di spiegarvi perché vi abbiamo rivolto un invito a completare una nostra survey insieme a TechData. Io faccio parte di un gruppo internazionale di consulenti che si chiama 4Place Digital che vede il mio partner, anche Pierre Mirless ed altri professionisti, lavorare insieme a me per accelerare le vendite dei partner del mondo IT, su cui noi siamo focalizzati al 100%, e la loro trasformazione verso il cloud. Il contesto di mercato oggi vede una situazione in cui il cloud sta diventando sempre più importante. La trasformazione dei partner e di tutti i clienti verso il cloud non è più un'opzione. La spesa in soluzioni cloud è cresciuta di oltre il 40% nel 2020, un anno in cui molti investimenti nel mondo IT sono stati rallentati, ovviamente a causa della crisi economica. Ci sono statistiche che dicono che la spesa in soluzioni cloud ha superato per la prima volta nella storia della nostra economia quella in soluzioni on-premise. E trasformarsi non è una cosa che si fa per caso, quindi noi abbiamo studiato a lungo tempo il processo con cui i partner del mondo IT come voi e vendor e clienti finali si trasformano e abbiamo notato che c'è uno stretto legame tra il consumo di cloud e alcune situazioni specifiche che noi siamo andati ad investigare. E quindi siamo riusciti a mappare questo effetto con un nostro framework di business che abbiamo sviluppato in maniera proprietaria. La trasformazione e lo sviluppo di aziende, di qualunque tipo di tecnologia di aziende e che riguardi anche non soltanto il mondo cloud, avviene tipicamente quando ci si fanno queste due domande. Dove possiamo andare a giocare le nostre competenze e come facciamo a vincere? Il modello che noi abbiamo sviluppato prevede di analizzare un'azienda che si muova dal basso a sinistra verso in alto a destra, sviluppando sempre più, come si vede sul piano orizzontale, nuove offerte dalle offerte esistenti e andando ad accogliere e accogliere sempre più opportunità con nuovi clienti dai clienti esistenti per l'appunto a nuovi clienti e nuovi mercati. E questo succede passando attraverso la fase core in cui le aziende fanno quello che hanno sempre fatto una fase di crescita e una fase in cui si trasforma se stessi e il proprio mercato. Per fare in modo di riuscire ad attivare questo semplice meccanismo che in realtà è semplice a dirsi ma meno a farsi, servono tre componenti fondamentali. Quello che noi chiamiamo mindset, cioè la visione trasformativa di come noi andremo a cambiare noi stessi il mercato, gli skill set, cioè tutto ciò che serve a costruire nuove offerte e quindi in primis le competenze tecniche e poi i tool set, cioè gli strumenti di gestione aziendale, quindi non soltanto relativi alle competenze tecniche ma relativamente alla nostra azienda in generale. Parlandone velocemente, il mindset in psicologia è un insieme di credenze che danno senso al modo in cui noi stiamo nel mondo. Ci sono persone che possono avere un mindset, quindi una visione del mercato e di se stesse particolarmente statica e altre che possono averle particolarmente dinamiche. Nel mondo che ci riguarda, nel mondo IT e in particolare per quanto riguarda il cloud, il mindset non è un termine generico, è un processo vero e proprio che parte dall'analisi della situazione di mercato e che noi abbiamo fatto molto velocemente oggi, alla riconoscimento di opportunità e ostacoli, alla comprensione di quelli che sono gli impatti sulla nostra organizzazione, all'allineamento interno con i nostri colleghi che faranno insieme a noi la trasformazione o meno e la decisione di investire o non investire. Allo stesso modo, parimenti, lo skillset è un insieme di processi a cui siamo più abituati e che passano sostanzialmente per l'acquisizione di nuove tecnicalità. Gli strumenti di gestione, cioè quello che noi chiamiamo toolset, allo stesso tempo è un processo, cioè soprattutto la parte di pianificazione di business e controllo del business, la gestione dei team interni, specialmente i venditori, non si comportano alla stessa maniera quando si tratta di vendere dell'hardware o del cloud, la comunicazione verso il mercato, quindi il racconto che andiamo a fare ai nostri clienti e il fatto che poi saremo in grado di sviluppare l'adozione dei nostri clienti o meno attraverso un viaggio verso il cloud. Noi di 4Place Digital abbiamo sviluppato una serie di strumenti che vi consentono di partire, qualunque sia il vostro livello di partenza per l'appunto, con un readiness assessment, che è quello di cui stiamo parlando oggi, e poi di passare attraverso altri strumenti che vi aiuteranno a colmare i vostri gap. In particolar modo, questo readiness assessment che cos'è? È un insieme di domande, troverete 12 domande sul sito web che tra poco mostrerò, che sono suddivise per l'appunto in tre categorie, le tre categorie che abbiamo visto prima. Quindi la categoria visione, la categoria competenze tecniche e la categoria strumenti di gestione. Prima e dopo queste tre categorie troverete due domande aggiuntive che vi chiederanno di autoprofilarvi e successivamente di dirci se avete un interesse in questo momento preciso a sviluppare ancora di più il vostro business nel mondo cloud con Microsoft Azure e per andare verso il modello MSP. Ecco una lista delle domande che troverete però nel dettaglio sul sito web che tra poco vi mostrerò. Quindi le domande della visione mettono insieme questioni molto generali, quindi la vostra idea del cloud computing, la vostra idea di Azure e questioni molto specifiche che servono a capire se in particolar modo per quanto riguarda marketing e vendite state già mettendo a terra la vostra visione. Gli skill set vengono a testare se abbiamo competenza e come la valutiamo nel mondo Azure, se abbiamo personale certificato, se vendiamo altri prodotti e servizi nel cloud e se abbiamo mai costruito offerte proprietarie nel cloud come per esempio del software. Da ultimo gli strumenti di gestione vanno a testare che cosa facciamo in termini di motivazione dei nostri commerciali, se abbiamo disegnato un strumento di assessment e di guida dei nostri clienti verso il cloud, se misuriamo il successo della nostra azienda nel cloud e se comunichiamo le nostre soluzioni cloud attraverso il nostro sito web. Quindi niente di particolarmente semplice e oggi andiamo a vedere insieme come è fatto questo sito web. Quindi insieme a Tech Data abbiamo sviluppato questo assessment che ci consente in maniera assolutamente anonima di rispondere alle famose 12 domande più un paio e sostanzialmente ovviamente anche di complementare queste domande con i vostri dati anagrafici. Come avete letto sopra e come dicevo la survey è completamente anonima e vi restituirà il vostro posizionamento rispetto agli oltre 700 partner che abbiamo già intervistato attraverso questo strumento a livello Western Europe e evidentemente anche molto a livello Italia. Quindi non mi resta che lasciarvi per dire che chi compilerà questa survey avrà di ritorno in maniera automatica il suo posizionamento che ci dirà come voi avete risposto in funzione e in rapporto agli altri partner. Ovviamente sarà poi compito di Tech Data, magari anche con il nostro supporto, di valutare con voi queste 12 domande, le vostre risposte e di darvi dei suggerimenti sul come evidentemente colmare alcuni dei gap che voi stessi avrete valutato e eventualmente di continuare questo percorso in maniera sempre più approfondita e veloce. Vi ringrazio per il tempo che vorrete dedicare a questa survey e ovviamente siamo a vostra disposizione attraverso Tech Data per ogni eventuale vostra richiesta. Buona giornata.